amici di intertv.it cuori forti nerazzurri bentornati da Michele Borrelli alle video news la giornata di mercato è finito il 15 giugno lunedì e questa non è una giornata che passerà così inosservata nella storia del calciomercato estivo del 2015 perché oggi non vi racconteremo così notizie di contorno come spesso abbiamo fatto nel primo mese o anche meno di mercato ma andiamo ai piatti forti perché dicevamo si stringerà il cerchio si stringerà il cerchio si stringerà il cerchio sui 3-4 ruoli su cui l'Inter dovrà spendere il nome di personalità le prime richieste di Mancini il cerchio si inizia a stringere in questa settimana direi quasi fondamentale del calciomercato dell'Inter questa settimana la prossima e poi naturalmente anche l'ultima di agosto come come sempre ci potrà essere qualche ritocco importante ma questa è la fase decisiva per il difensore centrale e per il centrocampista centrale annotiamo anche oggi Andanovic il suo procuratore dice che ormai si va verso il prolungamento del contratto è vero che la posizione del Manchester ancora non si sblocca però c'è un'apertura da questo punto di vista così come oggi anche la giornata in cui la società ha fatto capire che le cifre che sono trapelati 22 milioni per Covacicci bonus eccetera non è una cifra per cui la società può cedere il giocatore quindi direte ma allora solo belle notizie visto che tanto le abbiamo invocate ci sono perché Andanovic e Covacicci ad oggi sono più vicini all'Inter per quanto riguarda gli acquisti il difensore centrale i cinque la cinquina che avevamo fatto nella settimana scorsa nel focus delle video news si restringe a due grandi nomi con i due outsider i Rudiger i Caglià c'è il difensore dello Stoccardi il difensore Galatasaray che così come lo stesso Montoya del Barcellona che non possono essere la priorità così come noi abbiamo sempre detto Mancini vuole l'uomo di personalità allora ad oggi i due favoriti restano Ayman Abdenour e Miranda dell'Atletico Madrid naturalmente i così gli anni in meno di Abdenour fanno lievitare anche il prezzo il Monaco l'ha detto che cederà Abdenour cederà con Dogbia Abdenour è dell'89 Miranda è dell'84 quindi capite che cinque anni differenza possono fare la differenza anche sul prezzo l'Inter se capisce che sotto una certa cifra non si può andare per Abdenour il Monaco spara alto sui 20 milioni di euro è vero che anche per Miranda l'Atletico chiede una cifra simile però va un anno dalla scadenza e probabilmente con 15 o anche qualcosina di meno per Miranda si può fare e quindi ad oggi è questo il ballottaggio con Miranda in vantaggio per quanto riguarda il centrocampo nome forte al centrocampo restano con Dogbia e in Boulat i primi due obiettivi abbiamo detto dell'interesse forte del Milan per con Dogbia c'è chi si gioca la carta fondo c'è chi si gioca la carta Mancini saranno anche questi anche per il centrocampo i giorni decisivi noi continuiamo a dire non arrivano l'uno e l'altro perché si parla di Felipe Melo di Tiago Motta di Nbia di Allan o arriva l'uno o arriva l'altro è vero che quelli gli altri i Tiago Motta in Bia in ordine Tiago Motta Felipe Melo in Bia sono piano forse Bici e D ed è anche giusto che possano essere percepiti così ma oggi sono ancora aperte sia le piste in Boulat che quella con Dogbia l'inter ci proverà fino alla fine si registra oggi non dico il ritiro del Valencia su in Boulat ma quasi perché dopo aver preso due giocatori che fanno più o meno lo stesso mestiere dico io lo stesso ruolo centrocampista centrale difficilmente il Valencia andrà a offrire i 20 milioni di euro anche per in Boulat quindi ottime notizie anche per quanto riguarda il centrocampo il cerchio si chiude sul giocatore del Monaco e sul giocatore dell'Olympique Marsiglia i primi obiettivi restano vivi così come in attacco in attacco Jovetic resta la priorità è vero che l'Inter ha provato a prendere Perisic ci proverà ancora ma rimane sempre più difficile si va verso il prolungamento del contratto però ti resta una possibilità ma se Salah come sembra non rimarrà a Firenze anche la pista Salah diventerà sempre più sempre più vera possibile perché è un po' come il discorso di Ciceri Terrandez torna in Inghilterra per non rimanerci quindi l'Inter non ha mai nascosto l'interesse sia per Jovetic che per Salah per le cifre che ballano tra i 15 16 18 tutti e due non si possono prendere tutti e due anche se in prestito con diritto di riscatto quindi se il nome in attacco sarà di questo tipo c'è più che lo specialista il grande nome su cui l'Inter ha serie possibilità di essere la priorità per questi giocatori Jovetic con Pellegrini difficilmente resta al Manchester City così come Salah abbiamo detto per Mourinho e il Chelsea lo stesso discorso si potrebbe anche come aveva detto Mancini se non possono arrivare gli specialisti non è la priorità il modulo ma la priorità è la qualità quindi l'Inter con Mirando Abdenour con la conferma di Andanovic con Imbulao con Dogbia piano B Tiago Motta e con Salah o Jovetic farebbe una squadra che non dico fa sognare ma sarebbe super competitiva e quindi sono ancora vivi tutti gli obiettivi la notizia buona è che in settimana tra il centrocampista e il difensore si arriverà alla stretta finale poi in settimana arriverà anche la notizia sull'Europa League si Europa League no e quindi anche lì si capirà qualcosa in più sui movimenti di contorno perché l'Inter in attacco deve prenderne almeno due perché sono è vero Shakiri, Hernanes, tanti giocatori che possono fare anche il trequartista o l'attaccante aggiunto ma oggi l'Inter sta accelerando sulle priorità quindi giornata giornata importante settimana direi quasi al limite del decisivo parola abusata ma che passerà alla storia del calciomercato dell'Inter 2015. Rimanete con noi con le video news e con il punto del mercato del giorno questa è il diciamo questo è il riassunto delle ultime 24 ore di mercato a domani con tutti gli aggiornamenti da Michele Borrelli ed è intertv.it